Amore, ti piacciono i biscotti razzarini? Volete riconquistare la vostra nazione? Sì, di cazzo! Chi siamo noi, veramente? Questo qui è tuo! Giadina! Era qualcosa che cambierà il mondo. Ma ho fatto mai delle riprese da ragazzino con la casa che avevamo in campagna? Tenetelo sotto controllo. Sì, i tempi sono maturi. Buonasera signor Russo, stiamo facendo dei sondaggi in cambio di buoni sconto. A Italia Libera! A Italia Libera! Guarda, ti ricordi? Che c'hai? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Grazie a tutti